Ora vediamo il significato di queste due formule. La prima formula va utilizzata nei tratti 1, 3 e 5, cioè nei riscaldamenti o raffreddamenti, cioè quando cambia la temperatura ma non cambia lo stato di aggregazione. La seconda formula invece va utilizzata nei tratti 2 e 4, cioè nei cambiamenti di stato, quando cambia lo stato ma non cambia la temperatura. Cominciamo dalla prima formula che serve per calcolare il calore che è necessario fornire se noi immaginiamo di percorrere il grafico verso destra, quindi che è necessario fornire a una certa massa M di sostanza, per esempio 5 kg, per aumentare la sua temperatura, per esempio di 20 gradi centigradi o anche 20 gelvin che è la stessa cosa dal momento che le variazioni di temperatura sono identiche se vengono espresse in gradi centigradi o in kelvin. Quindi riassumendo, immaginiamo di avere 5 kg di una certa sostanza e di volerla riscaldare, cioè aumentare la sua temperatura di 20 gradi e questa formula ci permette di calcolare quanto calore dobbiamo somministrarle. Dobbiamo conoscere il calore specifico di questa sostanza. Il calore specifico è la quantità di calore che noi dobbiamo somministrare a 1 kg, 1 kg soltanto di quella sostanza, per riscaldarla soltanto di un grado. Per esempio immaginiamo che quella sostanza sia il ferro. Il suo calore specifico è di 460 Joule fratto kg Kelvin. Cosa significa? Che se noi abbiamo 1 kg di ferro e vogliamo riscaldarlo di 1 grado, dobbiamo fornirgli 460 Joule di calore. Ma noi non abbiamo 1 kg, abbiamo 5 kg. Quindi dobbiamo moltiplicare questo valore 460 per 5. E poi non vogliamo scaldare soltanto di 1 grado ma di 20 gradi. Quindi dobbiamo moltiplicare anche per 20. Quindi il senso intuitivo di questa formula è che se noi conosciamo il calore specifico della sostanza, cioè quanto calore serve per scaldare 1 kg di quella sostanza di 1 grado, poi basterà moltiplicare per quanti chili, 5 kg per esempio, e per quanti gradi, 20 gradi, per trovare il calore totale che servirà per riscaldare quella sostanza lì. Cioè, nel nostro esempio, per riscaldare 5 kg di ferro di 20 gradi. Si vede anche che le varie sostanze hanno calori specifici molto diversi. Per esempio l'acqua, 4186 Joule per ogni chilo e per ogni Kelvin, ha un calore specifico molto maggiore di quello del ferro. Questo significa che se abbiamo 1 kg d'acqua anziché 1 kg di ferro, per scaldarla di 1 grado, serve molta più energia termica, molto più calore, che non per scaldare di 1 grado 1 kg di ferro. Per scaldare invece, sempre di 1 grado, 1 kg di idrogeno, serve ancora più calore. Al contrario, i metalli sono quelli che hanno i calori specifici più bassi di solito. Per esempio, il mercurio o l'oro richiedono una relativamente piccola quantità di calore per riscaldare 1 kg di mercurio o d'oro di 1 grado. Questa formula si può utilizzare anche per i raffreddamenti, non solo per i riscaldamenti. Cioè, quando noi dobbiamo abbassare la temperatura di un corpo. Allora, in questo caso, la variazione di temperatura, che è sempre la temperatura finale, meno quella iniziale, assume segno negativo. È una variazione negativa, perché è una diminuzione di temperatura. Quindi, giustamente, il calore, anche lui, assume il segno negativo. Perché vuol dire che è stato sottratto a quel corpo. Ricordiamo, infatti, che il calore ha segno positivo quando viene assorbito da un sistema fisico e invece ha segno negativo, come in questo caso, quando viene ceduto dal sistema fisico. Quindi, il sistema fisico cede calore, calore negativo e la sua temperatura si abbassa. La variazione di temperatura diventa negativa.